Allora, non abbiamo notizie del globicefalo da ieri mattina alle 8, è stato avvistato nella parte più interna del Marina di Loano, l'ultima volta appunto ieri alle 8 e poi è scomparso nel nulla. Le possibilità sono o che essendo così grande se è morto sia affondato oppure semplicemente ha trovato il modo per uscire dal porto e quindi è andato fuori. I pescatori, allora, ieri ho avuto una telefonata con il presidente dell'associazione pescatori di Loano, Ferrari, e mi ha detto che una settimana fa erano andate a pescare totani, che sono cefalopodi, di cui si alimentano i globicefali, e avevano avvistato appunto un gruppo di 15 individui, quindi è probabile che sia il gruppo al quale appartiene questo individuo piccolo, questo piccolo globicefalo. So che i subacquei stanno scandagliando la Marina per vedere se trovano il cadavere, a quanto pare non l'hanno trovato, io sono molto contenta, mi auguro che non lo trovino e che l'animale ora sia fuori. Tutto la prima volta che mi capito di vedere un animale così grosso in acqua, prima ero anche un pochettino, avevo un po' di paura, poi dopo un po' si muoveva in una maniera che però mi sentivo inutile, perché non riuscivo a fare granché, era troppo grosso e girava, girava. Poi la cosa che mi ha colpito di più è il suono che emetteva, che sembrava come un ecoscandaglio uguale a quello delle imbarcazioni. A volte capita che qua lasciano acceso l'ecoscandaglio e sentiamo questo rumore sott'acqua quando facciamo dei lavori e lui emetteva lo stesso suono. Oggi abbiamo provato a controllare tutti gli anfratti del porto, tutti i punti dove si poteva infilare in qualche modo, ma non abbiamo trovato niente e siamo contenti così. Perché vuol dire che magari è uscito, è andato e speriamo che abbia ritrovato la sua famiglia e che adesso sia con loro. La prima mia impressione è stata, vabbè è stato un evento ovviamente che non capita tutti i giorni, eravamo tutti molto contenti, nel senso che se si poteva riuscire a portare questo cetaceo fuori, comunque è stato molto emozionante. E' emozionantissimo, sono contento che è uscito dal porto, quindi vuol dire che è vivo. Ce la puliamo? Sì, ce la puliamo. Grazie. Grazie.